L'ex sottosegretario all'economia Nicola Cosentino torna in carcere. Per la procura di Napoli i reati ipotizzati sono quelli di estorsione e concorrenza sleale con metodo mafioso nel settore dei carburanti in provincia di Caserta. Tra le persone coinvolte nella vicenda anche l'ex prefetto di Caserta Stasi. Cosentino, oggi leader di Forza Campania, ex coordinatore regionale del PDL, oltre che esponente di spicco di Forza Italia, è stato arrestato insieme ai fratelli Giovanni ed Antonio, imprenditori nel settore dei carburanti. Le indagini sono coordinate dai pubblici ministeri Ardituro, Vanori e Curcio con l'ausilio dei carabinieri di Caserta. L'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Nicola Cosentino fa parte di un insieme di 13 misure cautelari nei confronti di altrettante persone, tra cui Pasquale ed Antonio Zagaria, fratelli di Michele, boss del clan dei Casalesi. La famiglia Cosentino, proprietaria di vari distributori di carburante, avrebbe agito con pratiche commerciali lesive della concorrenza. Secondo la procura, i fratelli Cosentino, in concorso con dirigenti pubblici, funzionari della regione del comune di Casal di Principe e con la complicità di funzionari della Q8, avrebbero ottenuto con celerità il rilascio di permessi e licenze per costruire impianti. Determinante per far scattare l'inchiesta, il racconto di Luigi Gallo, titolare di una stazione di servizio in costruzione a Villa Briano, oltre a dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. La procura ha sottolineato in particolare un episodio, quello in cui Cosentino e l'ex prefetto di Caserta Maria Elena Stasi convocarono l'ex sindaco di Villa Briano nell'ufficio della prefettura di Caserta, intimandogli di provvedere alla rimozione dell'incarico del tecnico comunale che aveva rilasciato l'autorizzazione all'imprenditore Luigi Gallo a costruire. I fratelli Cosentino, invece, in questo caso, avrebbero ottenuto un impedimento per la realizzazione di un impianto simile a Casal di Principe. Il tutto, tra l'altro, sarebbe avvenuto con minacce di azioni ritorsive. Solo qualche giorno fa, Nicola Cosentino aveva partecipato alla presentazione del suo nuovo movimento politico Forza Campania insieme a un gruppo di consiglieri regionali dissidenti di Forza Italia e aveva anche annunciato l'intenzione di candidarsi alle prossime elezioni europee. Cosentino si era costituito al carcere di Secondigliano nel marzo del 2013 per i suoi presunti legami con il clan dei Casalesi. Era stato scarcerato definitivamente dopo varie fasi del procedimento lo scorso 8 novembre. Ora per lui si riaprono le porte del carcere.